L'Unione Europea è fondamentale in tutto, anche e soprattutto nell'evitare i disastri, nella previsione e nella prevenzione, che sono poi la base della protezione civile. L'Unione Europea è fondamentale in tutto, perché è molto importante, quando la Unione Europea è fondamentale, perché possiamo aiutare meglio e migliorare queste catastrofe. La climatica è una cosa che conosciamo. Ciò che si tratta, ciò che si tratta, ciò che si tratta, ciò che si tratta, ciò che si tratta. La migliorazione è fondamentale in emigrazione. Quando c'è la migliorazione, molti sono critici per la migliorazione, non volerà in emigrazione. Ma quando la migliorazione è venuta, la sveglia fredda, sono spesso, le spielli, le spielli, le spielli, le spielli. E quindi la solidarietà è molto importante. Il volo dell'Unione Europea è molto importante perché l'Unione Europea rappresenta una comunità di 8-500 milioni di persone. L'Unione Europea rappresenta una comunità di 8-500 milioni di persone hanno un effetto per la protezione.